L'umore è chiaramente alto, siamo sempre i primi in classifica, abbiamo perso una partita dall'inizio dell'anno, quindi non può che essere l'umore alto. E' chiaro che siamo dispiaciuti perché poi abbiamo perso per quell'episodio che abbiamo visto tutti, però c'è anche da essere, secondo me, fieri e orgogliosi di come se comportare sia la squadra che, non so, il mister o la società, perché vedo tante altre squadre che protestano per settimane, per settimane invece non abbiamo mai detto niente perché non è il primo episodio che ci fa sfavore. Però sappiamo che soltanto lavorando possiamo fare punti, quindi è quella la strada che abbiamo intrapresa e continuiamo così. Il Siena ha scelto un'altra strada perché quando leggo i giornali o le televisioni sento proteste da tutti i lati, quindi noi sappiamo che non possiamo, allenandoci non possiamo migliorare come l'arbitro ci giudica, quindi sotto quel punto di vista non possiamo fare niente, dobbiamo soltanto essere bravi, come abbiamo fatto nelle prime undici partite, a giocare meglio dell'avversario, a creare più occasioni e abbiamo visto che ne abbiamo vinte tante anche senza rigori o senza episodi a favore, quindi dobbiamo essere bravi a non pensare, a non fare le vittime, ma a pensare soltanto a essere più bravi degli altri. Il Siena è una squadra forte, se uno legge i nomi della rosa del Siena si mette paura, però sappiamo che non hanno un ritmo altissimo come possiamo averlo noi, quindi secondo me dobbiamo metterla sotto quel piano, dobbiamo cercare di correre più di loro perché abbiamo sicuramente più fame e più voglia di emergere rispetto a loro, quindi se la mettiamo sulla bassa intensità loro tecnicamente sono sicuramente più forti di noi, però sappiamo che dobbiamo fare un'altra battaglia e dobbiamo uscire dal campo con la maglia sudata e poi vediamo come sarà il risultato. Anche con la penalizzazione non hanno i punti nostri, quindi sicuramente qualche limite ce l'avranno pure loro, però vedendo anche le loro partite hanno giocatori forti di qualità sia avanti che a centrocampo, sono giocatori che hanno fatto sempre la Serie A, quindi non è un caso se l'hanno fatta per tanti anni e c'era l'anno scorso, quindi noi dobbiamo soltanto, come detto prima, aver più fame di loro, aver più voglia di fare punti, di aggredirli da tutte le zone del campo, correre più di loro, così possiamo metterli in difficoltà.